Come vi chiamate? Manuela Ribechi Carola Bonafede Che sport fate? Pallavolo Pallavolo Da piccole avevate un sogno? Allora, io prima di fare pallavolo in realtà ho fatto altri sport e poi una volta che diciamo ho conosciuto questo sport basta cioè è stato sempre questo il mio sogno, continuare a giocare a pallavolo Anch'io prima facevo nuoto poi ho iniziato pallavolo così diciamo per passione e per amicizie e mi sono appassionata E ora ne avete uno? Sicuramente raggiungere i massimi livelli possibili che posso raggiungere Anch'io diventare come lei e raggiungere anche la Serie A Vi ringrazio molto, ciao! 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 Grazie a tutti